Siamo impegnati ad approvare la delega in tempi brevi perché abbiamo l'urgenza di varare provvedimenti che siano utili a incoraggiare la maggiore occupazione, soprattutto a dare certezze ai datori di lavoro, a ridurre la discrezionalità del giudice del lavoro in modo che si crei maggiore occupazione. I dissensi ci sono, ci saranno nella maggioranza, fuori dalla maggioranza ma vedo un governo determinato ad approvare una delega che sia di vera riforma del mercato del lavoro.